E' U.N.D. in la Cerea. E' U.N.D. in la Cerea. Dove è? Mimì! Facciamo fuori che... Ma so' curva! Ma adesso deve... Ma... Com'è Giona tutto a posto? Ma però lei... C'è un convertisse... Se diventasse un altro umano... Come è Giona? Io non... Io non ero... Io non ero... No! Era... C'è un'altra cosa... C'è un'altra cosa... E non c'era ancora... Un modo di sconfidenza di... Ma quando siamo... Ma quando siamo... Forse è possibile... Ma... La scelta... La cosa... Allora... Li facciamo sedere e gli spiego dentro... La casa... Senti al prossimo... 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 Ma non mi sono accaccato alla mia... Quindi... Se è così... No... No... Senti al prossimo... Senti al prossimo... In questa... Senti al prossimo... Un appena o l'altra cosa... Ok... Questo lo si chiama... Il ministerio del Fattireno... E' stato fruttato nel 1525... Da... Da un uomo co-elemita... Che è dal... Dal centro... Della Calabria... Ca' kind... Il tempo... Tempore Dio... E camminando... Per... Per... La Calabria... E' venuto fin qui... Ha trovato quest'area... ha pensato di un po' se è giusto fondare questo castello in questa parte. Grazie. Allora, in un documento del 1700, vabbè, a parte che il committente è scritto lì, Labate Blasius, Blasius Venerabilis Abbas, Labate che ha comprato e ha fatto realizzare questo mosaico, il committente, si dice così, qui da noi. Ovviamente... Ora facciamo una foto di gruppo davanti qua. Sì, 1836. Sì, 1836. Sì, 1836. Sì, 1836. Scusate. Sì, la la scuola. Mo standards. No, non mi ab exercita la mia opinione. ragazzi ragazzi ci mettiamo tutti qui sopra ognuno ognuno ha in un altro spazio per farvi salire in un acqua se lo trovi ah ok please guys stay here even after this picture that we will take another one thank you don't move ma dai perchè qui ti aspetta don't move please so comfortable who's mine? the wine la guada la guada ahia vitti po facciamo una foto così facciamo una foto così grazie ah 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 una classica rappresentazione della Madonna che ha sulle braccia Gesù in seguito alla Costituzione, questa è di pantura medievale e ricorda molto le icone medievale che si si tratta di un'ottima domanda. Grazie. Anche questa parlavamo Dio di Giglia, al Patiglio, e anche questa qui il bambino indica la strada. Vedi, c'è il suo bambino con la mano. Sì, va bene. Grazie.